Buonasera, io sono onoratissimo di poter essere qui su questo palco questa sera per presentarvi l'evento clou di Ponza Estate 2013, il concertone voluto fortemente dall'ideatore del Deus Ex Machina di Ponza Estate 2013 che questa sera è seduto in prima fila e Sergio Castellani che vi pregherei di fare un applauso e naturalmente dal nostro sindaco Pierlombardo Vigorelli. Ponza Estate oggi si esalta in una serata internazionale, questo palcoscenico e questi artisti che calcheranno questo palcoscenico si potrebbe vedere, potrebbe sdoppiarsi in città come Sydney, come New York, come Tokyo, come Roma, come Milano perché gli artisti che si esibiranno su questo palco hanno questo curriculum. Signore e signori io sto per presentarvi quello che accadrà questa sera, il concerto di questa sera sarà aperto dal fisarmonicista e compositore Marco Lorusso, che pensate un po', sì questo lo merita, nato e cresciuto a Latina, è di fama internazionale, pensate che ha collaborato e collabora con Nicola Piovani e numerosi artisti internazionali, è reduce da una tournée di successo in Messico e in Canada, l'abbiamo questa sera a Ponza ma domani partirà per una tournée negli Stati Uniti, ha addirittura suonato in concerti in Mondovisione, alla presenza del Papa, quindi a me non resta che augurarvi buon divertimento e viva Ponza e viva Ponza Estate 2013. Grazie. 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 Ciao Ponza, buonasera a tutti, grazie per essere così numerosi, è bellissimo essere a casa e vedere un pubblico così forte. Ringrazio ovviamente l'amministrazione comunale, in particolar modo il nostro Francesco Cordella che poi ha dato voce all'inizio a questa serata e in particolarissimo modo Fernando Femiano, nonché amico da sempre e dedico qualche brano a lui perché stasera fa il compleanno, quindi è d'obbligo. Come avete visto questa è stata un'esibizione molto libera, c'era Astor Piazzolla, c'era un mio brano, una parte dell'adagio del concerto Darren Quest per chitarra, però questa performance che dedico a Ponza questa sera fa parte dal mio ultimo lavoro discografico, dal titolo Modern Accordion e che ho avuto la fortuna, non so per quale strano motivo, di portare in giro per il mondo, è un mix di fisarmonica in acustico con dei supporti elettronici creati e progettati da me. Il disco è edito e distribuito ovunque, insomma buon ascolto. Grazie. 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 Musica 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 Grazie, grazie. E continuiamo in questo viaggio un po' nella world music con un altro brano. Musica Grazie a tutti. 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 Io vi lascio con questo ultimo brano, dal titolo Obsession e poi alla nuova compagnia di canto popolare, che veramente per me è stato un onore aprire questo concerto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.